Buonasera, cari concittadini e concittadine, ho una comunicazione importante da farvi. A seguito delle dimissioni del consigliere Lopresti e della rinuncia del primo dei non eletti Paccarella, essendo stato io il secondo non eletti, vengo chiamato a svolgere il ruolo di consigliere comunale. E con orgoglio ho deciso di accettare tale nomina, poiché, già in diverse occasioni, ho rappresentato il popolo. Da adesso, quel popolo sarà rappresentato anche nelle aule consigliari. Vi aspetto giovedì 10 ottobre, ore 18.30, presso l'aula consigliare per il mio giuramento. Grazie per l'ascolto, vi aspetto numerosi.